C'era grande attesa per conoscere gli esiti del tavolo di confronto sul tema dell'impianta biomasse tenutosi stamani a Palazzo Rezzetti, tavolo disertato dal Comitato Aria Pulita, ma i dati esposti paiono raccontare una realtà meno disastrosa di quella del Comitato. Sono significativamente diminuite le segnalazioni di maledoranza da parte dei cittadini, quindi questo è un qualcosa che chiaramente sotto un certo punto di vista ci fa piacere, ci tranquillizza. Sicuramente non vuol dire che abbasseremo la guardia, infatti ASL ha il mandato comunque di svolgere un'analisi in quell'area residenziale appunto per verificare sia il problema delle maledoranze che eventuali altri problemi derivanti dalla presenza di questo impianto che potrebbero avere conseguenze sulla salute dei cittadini. Certamente c'è un problema anche complessivo in quell'area perché sappiamo per certo che non è solo quell'impianto a creare problemi di cattivi odori, quindi faremo un'analisi complessiva che tenga in conto anche, l'ASL farà un'analisi complessiva che terrà conto anche della presenza di altre attività produttive in quella zona. Abbiamo ricevuto notizie positive che chiaramente prendiamo con cautela da parte dell'azienda di consulenza che cura appunto il profilo ambientale degli impianti per conto dell'azienda, l'EcoStudio, la quale ci ha portato dei valori di emissione particolarmente bassi. Se questi valori venissero conformati da ARPAT sarebbe anche questa una notizia sicuramente incoraggiante. Per quanto riguarda il problema dei rumori, l'azienda è in procinto di erigere delle barriere antirumori, ha ultimato un progetto appunto per realizzarle. Queste dovrebbero essere realizzate entro la fine di settembre. Staremo a vedere una volta ricevuta anche l'aperizia di ARPAT se basterà a convincere il Comitato Aria Pulita.